1, vai! 4, subito sinistra 2, lunga chiude e subito destra 2, per destra 2, in sinistra 3 e destra 3 lunga, porca, al palo sinistra 3 lunga, e destra 3 meno, in destra 3, in sinistra 3, 2 tempi, chiude allo specchio, 80, destra 2 lunga chiude, 2 lunga chiude e subito sinistra 2 diventa 4, e subito destra 2, in attenzione sinistra 2 meno, la panchina chiude e destra 2, per sinistra 2 lunga diventa 3, e destra 2, in sinistra 4 lunga diventa 3 al bivio, per sinistra 6, per destra 5 e sinistra e destra 3, 30, sinistra 3, subito destra 4, 30, sinistra 3 meno, e subito destra 3 lunga, subito sinistra 3, 50, alla casa sinistra 6, 30, molta attenzione ai bidone sinistra 3 e destra 3, sopra di 3 secondi, per rail sinistra 3, subito destra 2, 50, a rail sinistra 3 lunga, subito destra 5 e alla piazza chiude 3 lunga, 50, alla casa sinistra 6, per sinistra 4, e subito al palo destra 3 meno, e subito sinistra 4, 30, sinistra 3, e subito destra 2, chiude, e sinistra 3, subito destra 4, per al muretto sinistra 3 lunga, 50 al biri, destra 2 lunga, in sinistra 3, in sinistra 3, e destra 4, e sinistra 4, per destra 6, 100, sinistra 4 subito, attenzione, attenzione, tornante destro, 100, sinistra 6, e attenzione, subito sinistra 3, subito destra 2, subito sinistra 4, e destra 150, al cartello giallo, destra 3, in sinistra 3, per al palo sinistra 2, e destra 2 chiude, e sinistra 2 meno, meno chiude, per al palo sinistra 2, e destra 2, subito sinistra 1, attenzione, chiude, in destra 2, subito sinistra 3, e arrighi destra 2, per sinistra 6, diventa 3, allo specchio, 50, attenzione, attenzione, sinistra 3, meno meno, e subito destra 3, 30, attenzione, stretto arighi destra 1, sporca, 30, alle case sinistra 3, in la chiesa sinistra 1, 2 tempi, Grazie. Grazie. Grazie.